e tutto questo richiede rispetto e gratitudine per voi che siete qui stasera e ci sono le persone che hanno preso parte a questo viaggio e che oggi odono per poter raccontare l'eccellenza anche dei prossimi anni sì perché quello che GD vuole trasmettere nei prossimi decenni è proprio la messa a fuoco sulla radice etica che porta avanti il lavoro e la cultura dello spesso insomma fare del lavoro una cultura e della cultura un lavoro e per ripercorrere questo viaggio che sta traendo da 700 anni GD ha preparato per voi questo spazio ecco la storia che cosa c'è? è a progredire e a migliorare da guardare avanti la storia che ci ha lasciato nel passato sono gli incontri dei nostri passi al futuro questa è la nostra storia un'azienda nato 100 anni fa con il lavoro delle prime notizioni del cuore con la passione dei motori sulle tecnologie più avanzate di oggi e più che mai sull'attenzione di sviluppo sostenibile e responsabile per aspirare sempre al risultato di noi questo è il nostro patrimonio l'eccellenza delle persone che rende messaggi di competenza spinto più realistico passione per la ricerca l'energia propulsora umana che dà impulso ogni giorno alla nostra capacità di innovare questa è il GD Guiding the present Design in the kitchen Comincia con una piccola stigina nel 23 과를 Montori la storia Il giorno prossimo vi siano per correnti sul futuro presente purti a partire per un tour internazionale tal filtrino stasera in un concerto esclusivo solo per voi prepariamoci ad attuare con un grande boato Gain Battle, Arizona, The Masked O.F.Gain Battle! Grazie a tutti. 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 Oh... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.